Aldo, ma ti stai lamentando quando ti sopporto a pigliare stamattina? Ma che è successo? Chi è passato? Ecco a destra mia moglie, come sempre Eh, cosa hai fatto? Niente meno, oggi ho fatto un sacrificio enorme perché ci ha affittato la casa in villeggiatura Vabbè? E che lo sai che mi ha detto? E mi sa fare la cammarina E te lo vedi perché, Aldo? Lì ci ha regalato addirittura un bisone E la moglie, mamma che è contenta se aprire, se mi sa luccare, se mi sa fare la pazza E perché? Perché la mattina, se si fa sterile, io pulo la cabbietta Allora...